Ciao e benvenuto o benvenuta in questo mio nuovo video. Oggi ti presento un'altra espressione naturale molto usata in italiano e che troverai molto utile se parli italiano con qualcuno. Questa espressione è Farina del mio sacco. Farina del mio sacco. Hai mai sentito questa espressione? Non c'entra la farina, non c'entra il sacco, è semplicemente un'espressione idiomatica che ha un significato ben preciso. Prima di svelarti questo grande segreto, ti chiedo di cliccare sul pulsante iscriviti qui sotto, così potrai ricevere i miei video non appena li carico sul canale. Ma vediamo l'espressione Farina del mio sacco. Non c'entra il cibo, come ho già detto, non c'entra la farina, ma Farina del mio sacco significa che qualcosa è stato fatto da me, con le mie risorse, senza l'aiuto di nessuno. Nel senso che ho preso il massimo dei voti con le mie risorse, con quello che sapevo, nessuno mi ha aiutato. Oppure, se scrivi una bella poesia, qualcuno ti può dire Wow, che bella poesia! Ma l'hai copiata? O di chi è questa poesia? E tu puoi rispondere L'ho scritta io È tutta farina del mio sacco Ok? Quindi, è farina del mio sacco significa che è qualcosa che ho fatto io, con le mie risorse e senza l'aiuto di nessuno. Ti piace questa espressione? Ho altre espressioni pronte! Farò dei video su ogni espressione per rendere il tuo italiano naturale e fluente, come sempre. Noi ci vediamo al prossimo video. A presto! Ciao!